Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Che domani ti becco, domani! Non pensiate tra anni, domani! Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico. Allora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla Playstation. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuole. Tutti? Dovete stare tutti a casa, devi andare. Non si può stare in mezzo all'astratto, non me lo devo spiegare, non si può stare. A casa! La massa, le fidanzate con la massa ci vuole. Se cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e vedi, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che ho dovuto chiudere? L'avete capito che chi cazzo ti andrà vedere per questi capelli giustamente ho avuto?